buongiorno a tutti e benvenuti grazie per aver aderito al webinar di questa sera organizzato dalla biblioteca dei test e quindi dall'ordine degli psicologi della lombardia insieme alla casa editrice o grefe e ringrazio la dottoressa rea per averci dato la sua disponibilità e essere oggi qui con noi io sono anita brambilla responsabile del progetto biblioteca dei testi insieme alla collega francesca gobbi buonasera a tutti allora prima di passare la parola alla relatrice vi fornisco alcune informazioni tecniche se non sentite bene o non vedete bene potete scrivercelo nella sezione domande che trovate nel pannello di gestione del programma e cercheremo di aiutarvi nella risoluzione del problema eventualmente sempre attraverso la sezione domande potete comunicare con noi lungo tutto il corso del webinar quindi io e la collega francesca gobbi faremo da mediatrice con la relazione con la relatrice quindi qualsiasi domanda vogliate fare il relato alla relatrice la scrivete in quella sezione e noi gliela poniamo verso la conclusione del webinar invieremo un link di we transfer che potrete copiare e incollare su google per scaricare le slide che la dottoressa ha messo a disposizione abbiamo avuto un piccolo problema tecnico rispetto alla webcam della dottoressa area che stiamo cercando di gestire ma in questo momento non riusciamo a farla apparire quindi speriamo che nel corso del webinar il problema si risolga va così potete vedere anche la dottoressa in faccia adesso passo la parola alla dottoressa area che è psicologa specialista in psicologia della salute dottore di ricerca in psicologia e psicologia dinamica e clinica è assegnista di ricerca presso il dipartimento di psicologia dinamica e clinica della facoltà di medicina e psicologia della sapienza a roma buon seminario buonasera a tutti mi dispiace davvero tanto di questo problema con la webcam che ovviamente ha funzionato fino alle 18 e 29 e poi si è sganciata per cui per adesso sentirete soltanto la mia voce e speriamo nel frattempo di riuscirci anche a vedere allora io intanto ringrazio le colleghe sia per la presentazione che per l'occasione che che stanno dando a me e alla casa editrice o grefe di raccontarvi oggi in questa oretta e mezza che passeremo insieme quello che è stato un progetto che ci ha accompagnato per gli ultimi quattro anni allora il webinar di oggi appunto un titolo un po provocatorio volutamente provocatorio che che dice se la sola valutazione cognitiva nei bambini e negli adolescenti non bastasse dico provocatoria perché chiaramente tutti i clinici e gli psicologi così come neuropsichiatri chi si occupa di valutazione nella prima infanzia nell'età adolescenziale si pone sempre ruota sempre spesso intorno a questa domanda no c'è chiaro che la sola valutazione cognitiva non basta è chiaro che una valutazione cognitiva per quanto approfondita non racconta mai interamente quello che è il profilo funzionale di un bambino e di un adolescente però è vero anche che nella nostra esperienza clinica ci troviamo molto spesso a dover costruire delle batterie di somministrazione che vadano a coprire quelle che sono i vari funzionamenti che dobbiamo valutare e e ci farebbe piacere invece a volte avere uno strumento che multidimensionale che possa dare un po tutte queste informazioni quindi questo era un po il motivo del titolo e questo è il motivo per il quale sono qui oggi a parlarvi delle scale ids 2 che vedete mi confermate mi fate solo un cenno se non vedete scorrere le slide per il resto penso di non poter fare altro perfetto grazie allora grazie quindi dicevo sì oggi vi presenterò quelle che sono le intelligence development scale seconda edizione quindi una scala di intelligenza e sviluppo per bambini e adolescenti sulla quale negli ultimi cinque anni abbiamo lavorato insieme al gruppo del dipartimento di psicologia dinamica clinica della sapienza insieme a me la professoressa anche la professoressa ferri la professoressa casa grande vedete in basso che il coordinamento internazionale invece di alexander grob e la collega agban more monarx di cui vi parlerò dopo ma si tratta di un coordinamento internazionale in quanto lo strumento ids 2 è uno strumento europeo al quale noi abbiamo partecipato fin dalla fase della costruzione quando dico noi dico noi italiani in generale vi presenti vi dico intanto di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di un test che valuta lo sviluppo cognitivo e quindi ci permette di misurare il quoziente intellettivo ma valuta anche lo sviluppo generale nei bambini e nei ragazzi dai 5 ai 20 anni è uno strumento che forse non vi ho detto prima ma sta per uscire quindi è in fase di pubblicazione per cui è molto recente e quindi costruito sui più recenti modelli di intelligenza su cui oramai anche altri strumenti si sono sono costruiti sopra particolare per quanto riguarda la valutazione del cui ma è basato anche su un modello integrato di sviluppo generale poiché oltre all'intelligenza valuta anche quello che è il profilo generale di sviluppo del bambino e dell'adolescente quali sono in breve ma poi ci torneremo con più in maniera più approfondita le aree che va a valutare sono oltre a quella cognitiva valuta le funzioni esecutive l'area psicomotoria lo sviluppo socioemozionale le competenze scolastiche e la l'area motivazionale questo un pochino in generale per presentarvi lo strumento ma adesso entriamo più nello specifico a quale domanda risponde la costruzione delle scale ids risponde a una serie di quesiti che con i quali ci confrontiamo quotidianamente che sono la necessità di utilizzare uno strumento sempre più aggiornato che vada a misura che ci permetta di misurare il profilo intellettivo e quindi permetta di rilevare anche delle disabilità intellettive risponde alle domande che si pongono coloro che invece hanno bisogno di approfondire il funzionamento esecutivo all'interno di uno strumento più ampio e quindi permette anche di valutare lo sviluppo delle componenti sociali ed emotive del bambino e dell'adolescente questo sicuramente un po il punto di forza oltre a quelli appena citati perché non sempre abbiamo a disposizione uno strumento standardizzato quantitativo che che ci aiuti a stilare un profilo oltre al colloquio clinico a una serie di altre valutazioni ma che ci permetta di stilare un profilo di questi aspetti nei bambini e nei ragazzi risponde anche a quella che è l'esigenza non solo di andare ad identificare dei punti di fragilità o delle cadute che il bambino ha in alcune aree specifiche ma anche quello di andare a verificare se esiste una sincronia dello sviluppo ad esempio nel caso dei disturbi dell'apprendimento così come nei disturbi di linguaggio o nel disturbi della coordinazione motoria e o nella dhd e così via cioè lì dove al di là del sapere quanto e dove un bambino cada quello che è più informativo per noi è verificare una sincronia nel funzionamento delle varie aree che probabilmente spesso alla base delle difficoltà che bambini manifestano è uno strumento che ha nella sua costruzione ha dedicato anche tanta attenzione a una alla possibilità di inserire una serie di item ovviamente soprattutto gli ultimi di ogni sottoscala che ci possano aiutare a discriminare maggiormente ehm tutta quella popolazione di bambini e ragazzi che rientrano invece nella categoria della plus dotazione intellettiva eh viene utilizzato e può essere utilizzato per valutare i prerequisiti nel passaggio per esempio da una ordine di scuola all'altro per in particolare per i bambini con bisogni educativi speciali perché oltre e lo vedremo fra poco oltre alla la componente cognitiva ha anche tutta una serie di altre ehm aree che vengono valutate legate all'ambito scolastico che appunto possano rappresentare una informazione importante per il bagaglio che il ragazzo ha nel momento di passaggio eh poiché è costruito ehm è costituito da eh un non solo una serie di item che permettono di valutare il quoziente intellettivo ad esempio ma anche un secondo blocco di item replicanti diciamo così ehm che sono stati inseriti proprio perché ehm volevamo rispondere anche all'esigenza di poter fare dei follow up più ravvicinati nel tempo utilizzando quindi un doppio blocco di prove che valutano le stesse aree ma con compiti diversi in maniera tale da mh evitare che la distanza ravvicinata nel tempo tra due valutazioni eh potesse inficiare invece la valutazione stessa vale a dire se il test cognitivo l'ho fatto oggi non posso ripeterlo prima di un tot di tempo perché ci potrebbe essere un effetto apprendimento ehm con le IDS questo può essere eh aggirato perché il secondo la seconda valutazione può essere fatta con una eh un secondo blocco di prove che permette però di arrivare allo stesso quoziente chiaramente è un monitor permette il monitoraggio nel tempo con lo stesso strumento questo vuol dire che un bambino valutato per la prima volta a cinque anni poi a dieci poi a quindici poi a venti può eh possiamo valutarlo sempre con le scale DS e quindi eh tenere sotto controllo quel bias che spesso incontriamo nel passaggio da un test all'altro e che racconta anche cose un po' diverse del percorso di quel bambino e ragazzo fino ad arrivare a quella che è dal mio punto di vista l'informazione rileva più rilevante cioè uno strumento che ci possa aiutare nella pianificazione dell'intervento perché poi fondamentalmente l'obiettivo della valutazione è questo e la verifica dell'efficacia degli interventi perché ognuna delle sottoscale che vedrete possono essere utilizzate in maniera singola e quindi fornire un'informazione più approfondita su quell'area specifica del eh del bambino e infine per obiettivi di ricerca poiché ha comunque tutta una eh serie di eh caratteristiche psicometriche che permettono a qualunque utilizzatore di poterla utilizzare anche a fini di ricerca ehm brevemente vi vi dico che ehm io insieme allo stesso gruppo che eh vi ho citato prima avevamo lavorato negli anni passati alla prima edizione dell'IDS e da lì che è nata poi l'esigenza e la voglia di partecipare a questo progetto o della seconda edizione perché il primo strumento che aveva una serie di aspetti eh differenti da quello che vi sto presentando presentando oggi primo tra tutti l'età a cui si riferiva perché l'IDS nella prima edizione ehm copriva un'età dai 5 agli 11 anni. Mh detto questo la cosa che eh aveva funzionato tanto e che clinicamente era risultata molto importante era appunto oltre alla eh l'attenzione alla valutazione del quoziente intellettivo permetteva di integrare qual qualunque altro qualunque altro test intellettivo con la componente sviluppo generale quindi immaginate l'utilità di una ehm di una batteria di prove che affiancandosi al cognitivo ci dà anche informazione su psicomotricità linguaggio ehm socioemozionale per questo eh come dire abbiamo aderito e fortemente spinto la possibilità di avere anche in Italia di partecipare anche come eh gruppi di ricerca italiani alla costruzione e la realizzazione di questa nuova edizione che vi ricordo arriva a coprire invece una fascia d'età che arriva fino ai vent'anni. È basata sul modello CHC di cui vi accennavo ehm prima e non sto qui al come dire a parlare del ci sarebbe tutto un altro webinar da fare sul modello CHC quello che eh però sottolineo nelle slide lo vedete in basso è che le scale di S sono state appunto costruite con l'obiettivo su questo modello con l'obiettivo di ridurre il più possibile l'importanza attribuita al cui totale quindi al fattore G ma di aumentare invece il numero di punteggi compositi a disposizione che possono essere utilizzati anche indipendentemente l'uno dall'altro in quanto più specifici e quindi sicuramente meglio traducibili eh negli interventi pratici sia di recupero che di potenziamento. Eh nelle slide vi troverete anche questa immagine tanto carina in cui come dire che racconta in funzione nel modello CHC di Gattel come sono costruite le scale ma lo vedremo pian piano mentre vi mostrerò tutte le le sottoscale di cui è composto. Eh vi parlavo e vi presentavo l'IDS2 come un'esperienza europea. Questo eh a questo dedico un minutino perché secondo me è importante. Ehm questo nasce fondamentalmente da un'esigenza pratica e da un'osservazione pratica. Io penso che ognuna di noi si sia ehm confrontato negli anni con la difficoltà di utilizzare ehm strumenti che vengono adattati al contesto italiano ma non eh che poi di adattamento vero eh hanno ben poco nel senso che noi siamo abituati ad utilizzare strumenti che arrivano per lo più dagli Stati Uniti. Eh strumenti di cui noi ci occupiamo quando li traduciamo quando li ehm sperimentiamo. Ecco forse adesso mi vedete perché vedo che c'è un condividi webcam. No? No vediamo sempre come prima un'immagine nera. Ok scusate. Magari. Io ho la webcam accesa per cui non capivo se mi vedevate oppure no. Sì compare il tuo nome ma sempre con eh un'immagine nera come se non eh fosse disponibile la telecamera. Io riprovo intanto a mandarle la richiesta. Vabbè. Scusate delle interruzioni. Eh no dicevo che ehm nel momento in cui poi li importiamo in Italia fondamentalmente l'esperienza che abbiamo è quella di eh somministrarla a quante più persone possibili per raggiungere un campione sufficiente ma poi la lo strumento rimane abbastanza uguale a se stesso per cui se costruito con eh sulla base di difficoltà di popolazioni americane non può essere non sempre facile adattarlo e ehm renderlo adeguato anche a livello di difficoltà dei bambini del nostro campione. Ecco l'esperienza che noi eh eh vi racconto che io vi racconto oggi con le DS2 invece nasce proprio da questo cioè dal bisogno intanto di avere uno strumento di matrice europea che quindi già di base per costruzione eh sia più legato alle nostre alla nostra cultura alle nostre ehm all'organizzazione del nostro ciclo di studi e così via. Ehm e in più uno strumento che non arriverà in Italia come tradotto dal tedesco piuttosto che dall'olandese ma le DS2 sono state costruite da insieme da tutte queste ehm nazioni da tutti questi paesi che adesso vedrete cioè ci siamo noi ci sono i paesi bassi la Danimarca, la Norvegia, la Finlandia, la Spagna, il Regno Unito e eh si è aggiunto anche il Brasile e chiaramente i paesi di lingua tedesca da cui è originata l'idea eh e quindi Germania, Austria e Svizzera in tedesca. Questo per dire che è uno strumento che abbiamo costruito insieme tutti quanti, abbiamo ragionato su quali prove potesse essere uguali per tutti e quali invece dovessero essere personalizzate come magari quelle con una connotazione prettamente linguistica ad esempio. Quindi le DS2 nascono e arriveranno ehm diciamo nelle nelle nei nostri studi ehm con la consapevolezza che lo stesso identico strumento eh adattato al contesto esiste in altri mh in circa tredici paesi europei. E chiaramente ehm per adesso insomma la siamo in fase finale ma la eh la taratura e il lavoro è stato condotto dal 2015 al 2019 quindi è stato molto lungo. Abbiamo raccolto dati su circa insomma ristretto poi dati fino a 1300 soggetti dai 5 ai 20 anni. Abbiamo compiuto tutta una serie di operazioni che che ci permettevano di mh attribuire allo strumento una buona attendibilità e validità per cui il retest a distanza di almeno un mese. Ad un sottogruppo oltre alle DS abbiamo somministrato le scale Weschler così come le matrici progressive di Raven nella loro forma standard. Ad una ad altri sottogruppi invece abbiamo proposto eh strumenti mh che valutassero la capacità adattiva e il funzionamento esecutivo tramite ehm tramite questionari somministrati alle figure di riferimento perché all'interno dell'IDS ci sono anche questo tipo di aree quindi dovevamo indagare se veramente misurassero quello che intendevano misurare. Ad un sottogruppo di adolescenti in particolare abbiamo somministrato una serie di strumenti per la valutazione di aspetti più emotivi come riconoscimento emotivo piuttosto che costrutti legati alla lessitimia o alla depressione. A un sottogruppo di bambini clinici dove per clinici in questo caso specifico intendiamo eh per lo più bambini con disturbi dell'apprendimento oltre alle scale DS sono state somministrate le scale delle le sottoscale e il funzionamento esecutivo delle NEPSI2 e a diversi gruppi clinici quali nascita prematura, disabilità intellettive eh abbiamo somministrato anche eh tutta la scala per poter inserire all'interno del manuale dei criteri di riferimento anche per popolazioni cliniche. In generale quello che è emerso rispetto al cui in particolare è che lo strumento ha una buona ehm correlazione con le scale che già conosciamo come le scale Veschler sia la Wipsi che la Wisch che la Weiss a seconda della dell'età di riferimento eh le correlazioni ehm come dire mh oscillano tra il punto sessanta e il punto ottanta che vuol dire che come eh indice di correlazione sicuramente molto valido eh il fatto che non siano elevatissime è dato non siano superiori al novanta cioè non misurano la stessa cosa con le stesse prove è dato proprio da questo cioè del fatto che nell'IDS2 sono state inserite una serie di prove che in queste scale che state vedendo non c'erano faccio un esempio tra tutti la memoria a lungo termine è una delle funzioni principali che anche in base al modello CHC deve essere valutato nel funzionamento cognitivo nelle scale Veschler per esempio la possiamo inferire da prove come la prova di comprensione o altre prove mentre nell'IDS2 c'è una prova specifica di questo tipo sia verbale che visiva per cui ecco come dire il margine di correlazione ehm che ci eh che rimane fuori è soprattutto legato al fatto che le le aree valutate sono le stesse ma le prove attraverso cui le valutiamo variano un pochino per quanto riguarda i cosa quali sono qual è la struttura ehm del cui che fornisce l'IDS2 allora l'IDS2 fornisce tre tipologie di quozienti intellettivi nel senso fornisce un quoziente intellettivo approfondito cioè basato sull'intero set di aree cognitive di subtest cognitivi che sono 14 e a una durata di somministrazione di circa un'ora e mezza eh permette poi invece di valutare un cui con un tempo più breve diciamo così più più o meno un'ora cinquanta minuti attraverso un cui standard quindi che non ehm in media nulla diciamo così al quoziente intellettivo approfondito ma che eh comunque costruito sui sette fattori principali che eh che adesso andremo a vedere che comunque riguardano prevalentemente sia l'intelligenza fluida che cristallizzata eccetera e poi c'è una versione screening sono solo due sottoscale e questo può essere utilizzato per esempio in tutti quei casi in cui eh abbiamo bisogno in pochissimo tempo di avere un'idea di eh cosa andare ad approfondire due due sottoscale che vedrete nel cui screening in realtà sono una prova di ragionamento fluido e una di prova è una prova di ragionamento di intelligenza cristallizzata. Oltre a questo eh quello che arricchisce ancora di più le DS2 rispetto ad altre eh scale è la presenza di valutazione di funzioni esecutive attraverso quattro sottoscale una mezz'oretta di tempo per somministrarle eh e nella funzione dello sviluppo generale si valuta l'abilità psicomotoria con tre sottoscale le competenze socioemozionali in un quarto d'ora venti minuti riusciamo ad avere un profilo su tre aree specifiche dello sviluppo socioemozionale le competenze scolastiche queste prevedono invece la somministrazione di diverse sottoscale a seconda dell'età e quindi anche il tempo varia a seconda dell'età del bambino. La propensione all'impegno e quindi un po' la la rappresentazione che il bambino e il ragazzo hanno eh della propria modalità eh di apprendimento e di impegno e quindi un po' una prova più metacognitiva ops eccomi e quindi per riassumere prima di entrare nello strumento vero e proprio i punti di forza che noi abbiamo individuato in questo test sono proprio questi che vedete eh riassunti qui quindi sicuramente il fatto che sia un test multicomponenziale e ben strutturato nella sua costruzione sia psicometrica che clinica eh risulta essere un grande vantaggio il fatto che sia co costruito a livello europeo ehm ci rende posso dire forse per la prima volta integrati all'interno della realizzazione di un progetto di questo tipo la possibilità di ottenere tre indici cui a seconda delle esigenze risponde ad esigenze diverse anche di tempistiche soprattutto per chi lavora nel in ambito territoriale e quindi con dei tempi che vengono scanditi spesso purtroppo non da noi ma da chi eh dal contesto diciamo così eh vedrete che ehm le IDS2 hanno tantissimi materiali molto accattivanti per il bambino e questo è per la anche per l'adolescente e questo è importante perché ehm facilita la partecipazione del bambino e ragazzo alla valutazione la rende meno pesante e ci aiuta a stabilire prima una relazione con con la persona che arriva in valutazione cercando di garantire il più possibile che tutto quello che sta manifestando e sta mettendo ehm in evidenza durante la valutazione possa essere veramente il frutto del suo maggior impegno rispetto ad altri strumenti ha una ridotta enfasi sulle capacità espressive verbali quindi non in comprensione perché ovviamente la eh la capacità di comprensione è importante per questo come per tanti altri test però dal punto di vista proprio espressivo sono forse solo un paio le prove nella scala cognitiva che prevedono che il bambino e il ragazzo debbano riferire verbalmente. Il test e retest facilitato lo abbiamo detto quindi abbiamo la possibilità di somministrare la scala più volte nell'arco dello stesso anno e un report informatizzato che quindi ci viene in supporto rispetto all'inserimento, la trasformazione dei punteggi di standard e soprattutto alla eh compilazione di un report narrativo rispetto a quello che abbiamo visto. Allora passiamo alla struttura vera e propria, alla presentazione vera e propria dello strumento, vedremo, partiremo dalle funzioni cognitive che racchiudono sia i test, le prove di intelligenza che quelle sul funzionamento esecutivo e poi vedremo invece le funzioni di sviluppo. Allora l'intelligenza come la andremo a verificare? La andremo a misurare? Andremo a misurare attraverso eh sette fattori, ciascuno costituito da due compiti e il primo è l'elaborazione visiva che ha eh rispettivamente una prova di ricostruzione di figure eh seguendo un modello oppure di ricostruzione di di modello attraverso la disposizione di alcune piastrine. Memoria a lungo termine sia uditiva che visiva, velocità di elaborazione e quindi attraverso due prove di barrage, una prova di eh due prove di memoria fonologica, di ripetimento, ripetizione di numeri e ripetizione di lettere oppure di serie miste di numeri e lettere. Memoria a breve termine viso spaziale attraverso la riconoscimento, l'individuazione di figure e figure ruotate. Il ragionamento concettuale composto da una prova di matrici e una prova simile ma in cui eh di analogia e diciamo così. Eh una prova di ragionamento verbale costruita da costituita da due compiti che sono le eh due prove eh due compiti che riguardano e indagano la capacità di individuare categorie e eh individuare contrari. Allora per ehm davanti a questo schema mh forse mi viene più facile anche ricordarvi ritornare un secondo al discorso dei tre quozienti intellettivi. Allora il quoziente intellettivo approfondito si ottiene con la somministrazione di tutte e quattordici queste sottoscale. Il quoziente intellettivo invece standard si ottiene somministrando le prime sette ehm i primi sette compiti che vedete quindi comporre figure, memoria uditiva, barrare due caratteristiche eccetera. Mentre il quoziente eh intellettivo screening quindi quello rapidissimo attraverso queste due ehm questi due compiti che vi ho eh contrassegnato con degli asterischi cioè una prova di matrice e una prova di categorie. Allora partiamo dalla eh dal primo eh fattore che valuta eh che è valutato alle DS2 è una prova di elaborazione visiva. Allora è riconducibile al fattore CHC della percezione visiva in quanto misura sia la percezione e la capacità di percepire, di analizzare, di immagazzinare e di recuperare stimoli visivi. Mh vedete io qui vi ho illustrato entrambi due esempi di entrambi i compiti. Il primo compito comporre figure è un compito che conosciamo tutti anche in altri strumenti è un compito in cui attraverso dei blocchetti di legno in questo caso sia rettangolari che triangolari il bambino seguendo un modello deve ricostruire la figura. Eh il secondo compito diciamo così è quello supplementare che possiamo somministrare invece si chiama disporre piastrine in cui il modello che viene dato al bambino al ragazzo è quello che vedete qui e cioè un modello in cui è disegnato come devono essere posizionate le piastrine si dà un foglio al bambino si danno delle piastrine vere in metallo e si chiede al bambino di riposizionarle nello stesso modo. Quindi come dire mentre il primo compito ha magari un maggior carico prassico motorio e il secondo un pochino meno ma entrambi i compiti comunque richiedono la stessa accuratezza percettiva e soprattutto è un confronto con il modello presentato per cui c'è un'esplorazione visiva una capacità di elaborazione visiva che viene valutata in questo modo. Il secondo fattore che viene valutato all'LDS2 è la memoria a lungo termine. Eh vedete sulla sinistra c'è la memoria uditiva per cui quello che si ehm come si somministra come in cosa consiste la prova nella raccontare una storia al bambino ragazzo e dopo circa 20 minuti richiedere una rievocazione libera. La rievocazione è in prima battuta libera. Eh in questo modo si eh segnalano e si individuano tutti gli elementi che il bambino è liberamente in grado di rielaborare in di ricordare. Tutto quello che invece il bambino omette viene ne viene tentato il recupero attraverso una rievocazione guidata e quindi ci sono delle domande che il somministratore fa per sondare quali dettagli il bambino è in grado di ricordare su domanda specifica. La ehm prova invece di memoria a lungo termine visiva prevede lo stesso la stessa tipologia di somministrazione quindi eh a distanza di venti minuti c'è la presentazione e poi la rievocazione. A questo punto però l'immagine non c'è non si parla di una storia ma di una immagine. Il bambino osserva un'immagine viene guidato nell'attenzionare tutta una serie di elementi presenti nella figura e dopo circa venti minuti viene che viene posta davanti a lui la stessa figura priva di tutti i dettagli e viene valutato quanto il bambino sia in grado di ricordare a livello visivo. Chiaramente come in nelle prove di memoria a lungo termine entrambi sub test prevedono e coinvolgono delle abilità linguistiche che eh solitamente correle strettamente correlate alla alla possibilità di recupero mnemonico. Il terzo eh fattore che che valutano le scale è la velocità di elaborazione. Allora vi trovate di fronte due prove di barrage. Ehm la velocità di elaborazione come dire racconta anche la capacità del bambino di eseguire in modo automatico e con agilità dei compiti cognitivi. Eh chiaramente ha una ehm alla base prevede una capacità, un'abilità e quindi permette anche di misurare anche questa cioè l'abilità di attenzione selettiva ehm in parti perché il compito ehm fondamentalmente prevede sto rendendo conto adesso che mi è rimasto un prefuso tra uditiva e visiva sulla slide ignoratela. Ehm la velocità di elaborazione nel primo compito prevede che il bambino debba identificare, deve appagarli con certe caratteristiche, c'è una item eh di addestramento e poi c'è il compito vero e proprio. Il ehm il tutto seguendo avendo un tempo massimo di quindici secondi per riga. Nella seconda nel compito supplementare invece verticalmente il bambino e il ragazzo hanno una serie di simboli ehm astratti e devono barrare quelli con alcune caratteristiche. Quello che distingue due compiti ehm sono ad esempio il fatto che il il primo compito con i pappagalli è organizzato in maniera ehm lineare eh per riga, il bambino scorre per riga, in qualche modo questo tipo di processamento rimanda un po' all'elaborazione della lettura. Mentre nel secondo compito, quello che vedete in rosso, con questi blocchetti tipo Tetris da barrare, il processamento invece è verticale e quindi richiama quello che è solitamente il tipo di ehm elaborazione che il bambino fa ad esempio quando esegue eh i calcoli. Eh i entrambe le prove sono state costruite sulla base di prove precedenti già standardizzate. Il tempo massimo di dieci e quindici secondi fondamentalmente nasce dall'esigenza di, essendo un una prova che prevede un'attenzione selettiva e quindi non sostenuta, che un maggior, fornire maggior tempo alla alla persona, al bambino potesse in qualche modo ehm impedire la possibilità di di far emergere le difficoltà attentive. Passiamo poi al quarto fattore che è quello di memoria fonologica. Ehm questo è costituito di due prove. La prima prova è ripetizioni di numeri e ripetizioni di lettere. Vuol dire che c'è un compito di ripetizione in avanti in cui si nel primo item ci sono solo numeri, nel secondo item solo lettere, il terzo item numeri, il quarto item lettere e così via. La ripetizione in avanti così come c'è la ripetizione indietro. C'è poi il secondo compito di ehm approfondimento che ehm in cui si richiede di ripetere serie miste. Anche qui la prova è di ripetizione in avanti e indietro, ma le lettere e i numeri sono messi tra loro all'interno dello stesso item. E il ve lo dico dopo ehm rimango sempre nell'ambito della memoria. Qui siamo nella memoria visivo viso spaziale a breve termine. Anche in questo caso ci sono due compiti. Il primo prevede che il bambino, quello con le figure geometriche prevede che il bambino ehm osservi un'immagine e poi la individui all'interno di una serie di immagini distrattori. Eh nel compito di approfondimento figure ruotate quello che varia è il fatto che la posizione del eh della dello stimolo può essere ruotato nello spazio. Andando avanti con la difficoltà eh sono organizzati ovviamente gli item in modalità crescente con una progressiva difficoltà. Andando avanti con la difficoltà oltre alla mh alla forma il bambino può essere distratto anche dal colore. Cioè il bambino potrebbe vedere qui questa forma gialla e poi doverla ritrovare ma la ritrova in azzurro. Quindi deve inibire l'effetto del ricordo del colore e concentrarsi solo nella forma. Questo come scusate come vi stavo dicendo poco fa come abbiamo visto anche per la memoria fonologica eh nasce proprio per mantenere contro controllare e valutare all'interno di questi due tacquini di memoria sia fonologico che viso spaziale anche la componente di memoria di lavoro per cui come nella prova precedente di memoria fonologica la ripetizione immersa quindi all'indietro prevede un carico di memoria di lavoro maggiore rispetto alla semplice a quella semplice diretta anche in questo caso oltre alla memoria viso spaziale a breve termine la prova permette di rilevare anche quella che è la componente il carico di memoria di lavoro in questo tipo di prova. Ragionamento concettuale è la penultima il penultimo fattore diciamo così eh valutato dalle IDS2 eh nell'ambito dell'intelligenza ed è una prova mh prevede due compiti un compito di matrici e un compito di immagini discordanti sono entrambi prove basate sulla cioè che prevedono un ragionamento logico deduttivo eh e astratto nel primo compito eh compito di matrici è un un classico compito di matrici per cui il bambino deve completare la matrice in base alla logica eh che eh accomuna le le prime le le tre figure presenti nella prova invece di immagini discordanti la natura concettuale riguarda il fatto che il bambino debba studiare e i sei stimoli individuare a quale categoria appartengano e segnalarci quella che non fa parte di quel criterio faccio l'esempio in questo caso sono tutte immagini grandi la numero due è l'unica eh più piccola e quindi rispetto alla grandezza questa è un'immagine discordante. e infine c'è il ragionamento verbale ehm costituito da una prova di denominazioni di categorie e una prova di eh in cui si richiede di nominare i contrari. Allora eh qui quello che viene valutato prevalentemente è l'intelligenza cristallizzata se prima abbiamo visto più ragionamento fluido adesso vediamo come nella prova di nominare categorie si richiede che cosa eh perché qui avete sia le immagini che le parole perché sono differenziate questo quasi in tutte le prove c'è una differenziazione tra bambini della fascia 5-10 la bambina e la fascia dagli undici anni in poi quindi per i più piccoli si mostrano delle delle dei tris d'immagine e si chiede al bambino di individuare la categoria d'appartenenza e verbalizzarla per questo dicevo c'è comunque acquisizione e l'utilizzo di conoscenza verbale nella intelligenza cristallizzata. Per i più grandi invece noi denominiamo delle triplette di parole e chiediamo al bambino al ragazzo di ehm riferirci la categoria di appartenenza. Eh approfondendo questo tipo di osservazione con il compito due, il compito di approfondimento che è nominare i contrari, andiamo a verificare ehm anche in questo caso attraverso del supporto visivo con il bambino, la capacità del bambino di identificare il contrario di grande per esempio sostenendolo anche con un ehm contenuto semantico della richiesta per cui un cavallo è grande, una mosca è, quindi c'è l'aiuto semantico perché la parola grande, l'aggettivo grande è inserito all'interno di una frase e c'è l'aiuto visivo per cercare di isolare quanto più possibile la variabile che vogliamo studiare. Mentre per i ragazzi più grandi abbiamo, noi richiediamo verbalmente il contrario di e quelle che vedete qui sono come dire gli ultimi item, quindi quelli un pochino più difficili. La ehm come dire il compito di ehm entrambi questi compiti oltre a eh valutare il ragionamento verbale e quindi la ehm l'intelligenza cristallizzata chiaramente hanno ecco questi sono compiti e un compito che ha un carico verbale importante perché sicuramente il vocabolario di un bambino ehm impatta su questo tipo di abilità ehm e con questo diciamo come dire e con questo tipo di osservazione concludiamo quello che è che sono i quattordici sub test che valutano ehm che ci permettono di ottenere il cui abbiamo visto non solo quattordici sub test ma abbiamo visto anche in totale eh non abbiamo visto tutti i dieci fattori previsti dal modello CHC perché questo ve lo anticipo un attimo perché ehm ad esempio la le abilità di lettura di scrittura di ragionamento logico matematico sono state anzi non sono state intenzionalmente inserite all'interno delle prove di intelligenza integrate eh all'interno delle prove di intelligenza perché verranno osservate le vedremo nelle prove di valutazione del profilo globale di sviluppo del bambino perché eh non volevamo e su questo siamo stati tutti concordi eh includere prove strettamente ancora più collegate al contesto culturale al contesto scolastico a caratteristiche eh di apprendimento del bambino non volevamo che andassero ad intaccare quello che fosse invece il profilo di intelligenza vero e proprio ehm vi ho portato all'interno del studio di standardizzazione abbiamo raccolto 116 casi di bambini con disturbi dell'apprendimento e quindi eh quello che vi porto qui è semplicemente un grafico che vi mostra in verde bambini con DSA in grigio e bambini di controllo quello che mi interessava eh mostrarvi è che comunque sono tutti nella norma eh così come da come dire così come ci si aspetta dalla letteratura ovviamente ma ci sono sicuramente delle aree più legate per esempio la terza all'attenzione la seconda alla capacità di rievoca di memoria a lungo termine di memoria fonologica piuttosto che di ehm eh intelligenza cristallizzata ragionamento ecco eh più di tipo cristallizzato che sono un po' alle aree che eh con maggiormente eh impattanti sui bambini con disturbo d'apprendimento e che in letteratura ritroviamo e che l'IDS riesce a rilevare passiamo adesso invece alle funzioni esecutive allora le eh le prove sono quattro e valutano e quattro delle principali aree che ci eh che possiamo identificare nel funzionamento esecutivo e quindi c'è la prova di fluenza verbale di attenzione divisa il un test di Stroop e una prova di pianificazione. Allora partiamo dall'affluenza verbale ehm è un compito sicuramente che può essere ricondotto a a un come dire a un meccanismo di flessibilità cognitiva perché è un compito questa è una delle prove diciamo uguali un po' in tutti i test chiaramente in cui si richiede diciamo il costrutto è quello di richiedere al bambino di nominare più velocemente che può il maggior numero di parole possibili che rispettino delle caratteristiche abbiano delle caratteristiche allora mh nelle DS2 sono diversificate le prove per i piccoli e i grandi nei piccoli fino ai nove anni e la richiesta è di elencare delle parole per categoria quindi tutti gli animali che ti vengono in mente nel più breve tempo possibile tutti i cibi nei ragazzi più grandi invece oltre alla prova di animali che è uguale a quella dei piccoli c'è una prova con il doppio compito per cui dobbiamo chiedere al ragazzo di dirci tutti i mezzi di trasporto che gli vengono in mente e nomi di frutta e verdura alternando quindi il bambino il ragazzo deve nominare prima un mezzo di trasporto e poi una frutta e verdura stessa cosa succede con le lettere tutte le parole che iniziano con una specifica lettera e poi tutte le parole che iniziano con due lettere in particolare alternando prima una lettera e poi l'altra quindi chiaramente la flessibilità cognitiva è rilevante in questo compito e ci dà anche importanti informazioni su quelle che sono le strategie che il bambino il ragazzo si stanno costruendo per riuscire ad superare come dire ad affrontare un compito di natura verbale come questa su cui subentrano sicuramente anche altri componenti come l'ansia piuttosto che la il vocabolario ovviamente le altre abilità più strettamente più specifiche perché solitamente quello che è la natura diciamo di questo compito è che ci si appoggi a categorie note e poi da lì piano piano si arricchiscano le si arricchisca il compito di tutta una serie di risposte che possono essere più o meno divergenti a seconda della delle abilità e delle capacità di un ragazzo di un bambino la seconda prova di funzionamento esecutivo che inserita nelle ds è una prova di attenzione divisa allora i pappagalli li avevate già visti prima e perché nell'area cognitiva nella valutazione dell'intelligenza c'era una prova di attenzione selettiva la differenza fondamentalmente nella strutturazione del compito perché lì il compito era un foglio organizzato su linee regolari questo invece è un foglio i pappagalli non sono organizzati in maniera strutturata e poi quindi il bambino ragazzo già conoscono la prova viene comunque ripetuta tutta la richiesta viene ricondivisa viene fatto di nuovo un esempio c'è di nuovo un compito di prova ma qui cosa deve fare la persona deve barrare i pappagalli che hanno due caratteristiche arancioni all'interno delle file di pappagalli diversi più rapidamente correttamente che può mentre si pronunciano nomi di animali quindi c'è un doppio compito il bambino e ragazzo devono barrare e nominare contemporaneamente questo vuol dire dividere le proprie risorse attentive vuol dire riuscirle a dividere in un compito in due compiti simultanei abilità che appunto corrisponde a quello che è il costrutto di attenzione divisa ovviamente per i più piccoli il numero di target sicuramente minore nei più grandi cresce anche il numero di target abbiamo poi un pro un compito di interferenza inibizione la prova si chiama denominare i colori degli animali e è organizzata in maniera tale che ci siano tre si procede per tre step allora il bambino o il ragazzo devono indicare nella compito iniziale quello che vedete in alto devono denominare i colori che vedono che corrispondono al colore dell'animale e quindi c'è sia una lettura del colore che una coerenza semantica per cui il delfino è blu e quindi il bambino deve dire blu verde giallo rosso una volta addestrato su questo tipo di su questo compito si passa al secondo chiaramente ci sono più più pagine più prove le stringhe sono più lunghe queste che vi porto sono solo un esempio si passa al secondo step che è quello in cui le figure sono grigie ed è il bambino che deve attribuire il colore appoggiandosi alla alla semantica e quindi alla reale colore dell'animale quindi deve dire blu verde giallo rosso si passa poi al test di struppo vero e proprio in cui la stringa prevede una sequenza di animali che hanno dei colori sbagliati e quindi qui la richiesta è di nominare il giusto colore dell'animale quindi deve il bambino deve inibire la risposta automatica di dire giallo quando il delfino è giallo e evitare l'interferenza del colore per riuscire a produrre la risposta corretta che è azzurro e così si procede fino a una prova chiaramente a tempo per cui si procede segnalando sia la la durata quanto tempo quanti target corretti il bambino ha segnalato in un certo tempo ma anche quella qualità dell'errore che commette per verificare se è un errore legato all'interferenza o altro e infine un compito di pianificazione muoversi lungo un percorso è una prova che prevede per diverse età e diverse livelli di difficoltà delle una sorta di piccoli labirinti che poi diventano man mano più complessi in cui il bambino l'adolescente deve passare per una sola volta dentro con la penna nel percorso stabilito qui vi ho messo l'esempio di una prova che si utilizza con i bambini piccoli perché ci sono sono state aggiunte delle casette quindi si dice al bambino fai finta di essere un postino devi partire da una casa e arrivare all'ultima casa senza passare due volte per la stessa strada proviamo ad allenarci a trovare delle strategie poi man mano che cresce il compito diventa sempre più complesso richiede chiaramente sia problem solving perché devo affrontare un problema ma pianificazione perché devo pianificare prima della realizzazione del compito la il percorso da da seguire un po come succede come dire con con la torre di londra e quindi c'è una pianificazione prima della del passaggio alla azione vera e propria andiamo verso la parte che aggiunge tante altre informazioni a quello che naturalmente è un test cognitivo e cioè l'area delle funzioni dello sviluppo generale noi vedremo sia delle prove che valutano che ci permettono di osservare e valutare il bambino dal punto di vista psicomotorio inteso come grossomotricità finomotricità e visomotricità la grossomotricità come vedete è valutata solo per bambini piccoli mentre non vedremo poi delle prove socio emozionali socio emotive di valutazione socio emotiva c'è c'è un gruppo di prove che riguarda il riconoscimento emotivo per i bambini sotto i dieci anni di regolazione emotiva e competenze sociali invece per tutti dai 5 ai 20 vedremo poi tre tipologie di prove che valutano le competenze scolastiche che riguardano sia abilità più linguistiche che la ridiragionamento logico matematico diletto scrittura e comprensione del testo sia delle prove di propensione all'impegno cioè dei piccoli questionari per i più grandi e con modalità più interattiva per i più piccoli item che valutano la coscienziosità e la motivazione partiamo dallo sviluppo psicomotorio allora per i bambini dai 5 ai 10 anni noi valuteremo quest'area attraverso tre tipi di compiti una prova di equilibrio in cui come vedete c'è la bambina che cammina lungo una linea dritta è una corda appoggiata a terra in realtà c'è una prova di coordinazione in cui si chiede al bambino di afferrare una pallina che gli viene lanciata ovviamente ci sono più tentativi che possono essere fatti e una prova di coordinazione diciamo generale che riguarda la capacità di mantenere l'equilibrio e controllare la postura durante il movimento come quindi come il salto quindi c'è una prova più statica una prova più e più dinamica come quella della ferrare la pallina perché comunque il bambino deve riorganizzare riadattare il proprio movimento anche rispetto all'agente esterno è una prova di coordinazione motoria legata alla alla riorganizzazione dell'assetto del posturale del bambino durante il salto la valutazione sia qualitativa che quantitativa cioè c'è sia un numero di cose che il bambino deve fare che quindi prenderanno un punteggio ma c'è anche una valutazione specifica punto per punto che ci permette di andare a capire dov'è che il bambino ha incontrato difficoltà che tipo di difficoltà ha incontrato e questo è stato per noi scusate per noi è stato importante tenerlo dentro un test cognitivo di sviluppo generale perché molto spesso vediamo bambini soprattutto di questa fascia d'età che arrivano per difficoltà legate all'apprendimento piuttosto che all'attenzione avere un assetto come dire neuropsicomotorio non sempre a livello rispetto all'età noi in quanto psicologi non sempre siamo tenuti a conoscere o avere strumenti per la valutazione grossomotoria come dire questa sottoscala dell'eds lungi da voler essere una prova diagnostica per il disturbo della coordinazione motoria semplicemente uno strumento una parte dello strumento che ci permette di accendere una lampadina lì dove possiamo avere una un dubbio del tutto empirico diciamo così e che lo strumento invece ci permette anche di quantificare per poi sicuramente inviare ad un approfondimento lo stesso vale per lo sviluppo fino motorio queste invece va dai 5 ai 20 anni ci sono due prove entrambi bimanuali quindi dell'avvitare e svitare dei bulloni di grandezza diversa ai dati e dell'infilare delle perline che hanno anch'esse forme diverse anche in questo caso la valutazione sia qualitativa che quantitativa e in qualche modo ci aggiunge un pezzetto un'informazione a quest'area psicomotoria che stiamo valutando perché sono due prove che comunque prevedono che il bambino eserciti una certa coordinazione oculo manuale una certa precisione che i suoi movimenti anche prastici debbano essere mirati e coordinati e queste sappiamo essere abilità e aree che spesso vengono segnalate come quelle problematiche proprio durante il percorso scolastico soprattutto nella nella primaria e l'ultima prova di sviluppo generale psicomotorio è il viso motorio anche questo per tutti è una prova in cui si richiede al bambino ad esempio il primo compito di tracciare delle linee senza toccare bordi quindi questa è una sorta di seguire il percorso mentre c'è poi il secondo compito è invece una copia di figure il terzo compito sono le figure speculari in tutti e tutti e tre i compiti vanno somministrati chiaramente anche in questo caso la copiatura il disegno speculare come il tracciare linee senza toccare bordi richiedono sicuramente una precisione fino motoria in particolare copie di copie di figure e disegno speculari hanno anche una come dire richiedono al bambino e ragazzo anche di press di avere una di osservare la relazione tra le parti tra le dimensioni la distribuzione della figura nello spazio l'attenzione alla distanza e anche in questo caso possiamo avere una uno screening diciamo così degli aspetti viso motori che poi possono essere approfonditi con test più specifici se il bambino e ragazzo in questo hanno difficoltà e infatti vi porto questo piccolo grafichetto perché è quello che mi sembra più interessante che poi nei bambini con disturbo dell'apprendimento almeno nei 116 che noi abbiamo conosciuto l'area maggiormente compromessa è quella grosso motoria no ci si potrebbe aspettare che fosse la viso motoria anche questa comunque sicuramente più fragile rispetto al gruppo di controllo ma sicuramente la grossomotricità racconta uno psicomotorio più generale del bambino perché all'interno delle abilità grossomotorie poi ci sono anche una serie di movimenti fini e precisi che il bambino deve mettere in atto anche per fare delle prove di grossomotricità e veniamo invece alla parte che ovviamente ci piace di più che è l'area delle competenze socio emozionali allora faccio una piccola premessa le la valutazione socio emotiva dell'eds si rifà a un costrutto di cognitivo dell'intelligenza nel senso che dovendo operazionalizzare le teorie sulla sullo sviluppo emotivo attraverso prove e strumenti il più oggettivi possibile che si riface che permettessero anche una codifica meno soggettiva possibile chiaramente non si utilizzano prove proiettive in questo test ma si utilizzano stimoli che permettano di indagare fondamentalmente tre aree una il riconoscimento emotivo ed è quella che vedete qui è prevista solo per i bambini dai cinque dieci anni attraverso delle fotografie reali di bambini reali che esprimono delle emozioni si valuta la capacità del bambino di non solo di riconoscere l'emozione provata dall'altro ma anche di dargli un nome la prova è verbale io devo chiedere al bambino come si sente il bambino della foto che sta guardando e quindi quale emozione prova questo perché in qualche modo a quest'età come dire interpretare riuscire a leggere meglio gli stimoli emotivi sul volto dell'altra persona è un po il precursore di una possibilità di una capacità poi di elaborare anche delle strategie di regolazione che sono la prova successiva la seconda prova infatti delle competenze socioemozionali è la prova di regolazione emotiva allora la prova di regolazione riguarda tre tipi di emozioni sono quelle a connotazione più negativa paura rabbia e tristezza perché solitamente sono quelle in cui si richiede una maggiore regolazione allora quindi di fondamentalmente di fronte alla paura la rabbia e la tristezza il bambino e ragazzo come si comportano non tanto per come si comportano intendo come la manifestano ma come la regolano come si fa a valutare questo con le ds allora prima di tutto vi dico che sono state inserite immagini diversificate per l'età per cui per i più piccoli ci sono foto dei bambini e per i più grandi foto di adolescenti le prove poi sono a misura cioè racco il la richiesta di regolazione si fa attraverso una breve storia che si racconta e le storie sono diverse a seconda dell'età del bambino quindi ad esempio di fronte a questa bambina molto arrabbiata per bambini di cinque dieci anni si dice immagina che questa bambina sia arrabbiata perché gli altri bambini non la lasciano giocare con loro cosa gli consiglieresti di fare per non essere più arrabbiata allora si si lascia il bambino libero di rispondere e le risposte verranno codificate come vi dico fra vi dirò fra un attimo vi dicevo che sono diversificate perché ad esempio a 11 16 16 anni la natura del compito intanto si passa dalla dal fare immedesimare il bambino con l'immagine che vede all'utilizzare l'immagine solo come stimolo ma per parlare di sé e quindi a già 11 anni chiediamo immagina tu di essere arrabbiato perché il tuo insegnante ti ha fatto fare un compito molto difficile cosa potresti fare per non essere più arrabbiato e per i più grandi ad esempio si sono state inserite situazioni legate amicali per esempio degli amici che sono andati via senza aspettarlo per cui ecco per in questo per dirvi che degli 11 anni in poi l'immagine aiuta supporta il riconoscimento dell'emozione ma la regolazione delle emozioni viene codificata in base al tipo di risposta che il bambino e il ragazzo danno in che modo attraverso quelle che vengono definite strategie più o meno adattive di regolazione emotiva sono considerate strategie adattive tutte quelle strategie che riguardano la capacità della persona di sapersi gestire in forma autonoma di risolvere in forma autonoma il conflitto legato da quella in nato in quella situazione e che porterà sicuramente delle emozioni più positive rispetto a quelle da cui sono partito faccio un esempio di strategia adattiva ad esempio mi focalizzo sul problema mi è andato male l'esame ad esempio quello che dicevamo prima ha avuto un brutto voto sei arrabbiato cosa potresti fare esempi di strategie adattive sono mi focalizzo sul compito piuttosto che e quindi cerco di trovare una soluzione per la prossima volta piuttosto che cerco di distrarmi e quindi vado a ascolto un po di musica mi rilasso perché così che poi possa tornare il buon umore e riprendo in mano la situazione che mi aveva creato rabbia l'accettazione e riconoscimento quindi questi sono esempi di strategie adattive che chiaramente sul manuale sono indicate aiutano il codificatore ad attribuire punteggi le strategie invece completamente disadattive sono quelle in cui la la persona agisce la rabbia verso o contro un'altra persona o verso se quindi do le testate al muro piuttosto che picchio il professore chiaramente sono considerate strategie assolutamente non adattiva e così come lo sono anche la rinuncia il ritiro la perseverazione quello che trovate al centro invece sono le altre strategie cioè non sono né completamente adattive né disadattive sono solitamente quelle strategie in cui il soggetto per affrontare e regolare quelle emozioni si appoggia a qualcun altro e quindi chiedo a mamma mi faccio consolare vado da un'amica piuttosto che oppure la esprimo ma senza danneggiare nessuno e quindi ho bisogno comunque di sfogarmi ad esempio do i pugni sul cuscino quindi non ho danneggiato nemmeno nessun altro però non ho potuto evitare di dovermi sfogare prima di imparare a regolarla l'ultima delle competenze socioemozionali è l'area delle della conoscenza sociale delle come dire del comportamento socialmente adeguato allora in questo essere socialmente competenti le prove che si che sono state costruite sono prove che si basano un posto il costrutto del compito della pro attivi della dei comportamenti pro attivi e pro sociali della pro socialità per cui per stimolarli cosa è stato fatto a seconda dell'età dei bambini ha sempre attraverso il supporto visivo di alcune immagini si illustrano delle storie come ad esempio vi faccio l'esempio di quella dei bambini da 5 10 anni si illustrano storie del tipo guarda questa bambina aveva promesso agli zii o ai genitori a seconda che il bambino abbia o meno i genitori di fare che avrebbe fatto un lavoretto per loro ma non l'ha fatto cosa pensi che dovrebbe dire la bambina cioè cosa potrebbe quale potrebbe essere una buona risposta e si lascia la risposta libera al bambino ad esempio per i ragazzi di 11 anni si chiede invece di immaginare ecco vedete il passaggio è lo stesso che sulla regolazione emotiva per i piccoli e guarda questa immagine ispirati ad essa per i più grandi e immagina di aver promesso di dar l'acqua alle piante mentre i tuoi genitori erano fuori non l'hai fatto alcune piante sono morte o appassite qual è la cosa migliore che potresti dire loro e così anche poi per questo è fine vent'anni in questo modo quello che si va a verificare è la capacità del bambino di dare risposte che possono andare nella nel versante dell'empatia piuttosto che del farsi carico della condivisione o dell'aiuto perché in qualche modo sono comportamenti volontari volti a regare un beneficio agli altri senza la richiesta l'aspettativa di una ricompensa personale questo quello che andiamo a a cercare con questi comportamenti socialmente adeguati nel manuale trovate le griglie di correzione che possono aiutare a decodificare le risposte perché le risposte sono pienamente corrette quando lo scusarsi la disponibilità a cambiare il manifestare il dispiacere per aver fatto una cosa non giusta sono tutte e tre presenti fino ad arrivare a una risposte che con considerate completamente non soddisfatte del criterio della pro socialità che non soddisfacente il criterio della pro socialità che riguardano invece l'agito per cui il non mi interessa tendo a per qualunque cosa che possa peggiorare quella situazione che non abbia comunque nessuna intenzione non nascondano nessuna intenzione di scusarsi o di essere disponibili a cambiare e infine un po più velocemente vedremo le competenze invece scolastiche allora voi troverete nelle competenze scolastiche delle prove di ragionamento logico matematiche che riguardano tutte l'età dai 5 ai 20 anni questo perché perché per i più piccoli troverete delle prove di conteggio di ordinalità di associazioni di concetto di quantità conteggio di ordinalità e quantità sono comunque entro il 3 il numero 3 per cui insomma si rifanno poi alla al subitizing all'abilità di subitizing del bambino per cui non si richiede al bambino piccolo di avere e acquisire delle abilità che invece dovrà apprendere successivamente per i più grandi invece ci sono prove di immarianza queste sono solo alcune ce ne sono molte altre calcolo a mente per esempio dagli otto anni in su proporzioni e scomposizioni frazioni ragionamento inferenziale insomma tutto quello che è il ragionamento logico matematico che va dalla appunto dalla conoscenza numerica al senso del numero al problem solving a ragionamento logico lo trovate all'interno di questo di quest'area le competenze linguistiche vengono valutate solo per i piccoli dai 5 10 anni ci sono prove di analisi sillabica e fonemica per cui segmentazione sillabica quindi io dico la parola per intero il bambino la deve sillabare riconoscimento di rime io dico un tris di parole e il bambino deve individuare le due che fanno rima individuazione del fonema iniziale finale quindi io pronuncio in questo caso una una sola sillaba ma anche parole più lunghe e il bambino deve individuare in un compito la lettera iniziale nella compito successivo la lettera finale la segmentazione fonemica quindi io pronuncio una prima una sillaba soltanto e poi paroline dalle bisillabe a trisillabe e chiedo al bambino di segmentare fonema per fonema sempre nell'area delle competenze linguistiche per i piccoli troveremo anche una prova di corrispondenza fonema grafema sia nelle parole che nelle non parole cosa vuol dire che il bambino a queste cinque vocali davanti che il bambino riconosce anche a cinque anni e nelle nella prova con le parole chiederemo al bambino ad esempio con quale di queste letterine inizia la parola orso mentre nella ed è una prova di esempio nelle non parole con quale di questa lettere per ad esempio inizia la parola afale e così andiamo a verificare anche la capacità del bambino come prerequisito di corrispondenza fonema grafema sempre per i piccoli abbiamo invece una prova di linguaggio espressivo quindi il bambino deve su stimolo visivo ad esempio guarda questa è una palla inventiamo una frase con la parola palla cioè diciamo qualcosa con dentro la parola palla quindi la prova prevede di richiedere al bambino di produrre frasi semanticamente significative e grammaticalmente corrette man mano che la prova va avanti e quindi che si va verso i dieci anni gli stimoli possono arrivare ad essere due o tre e quindi il bambino deve combinare e produrre una frase inserendo all'interno della stessa più elementi nel sempre per questa età abbiamo una prova anche di linguaggio recettivo c'è una prova di esecuzione di consegne verbali io il bambino ha diversi oggetti a questo pupazzetto e una serie di altri oggetti accanto si chiederà al bambino di fare seguire a questo pupazzetto agli oggetti quello che noi diciamo quindi le frasi inizialmente sono brevi e soggetto verbo oggetto man mano compaiono frasi passive riflessive subordinate in maniera tale da verificare la capacità del bambino di trattenere in memoria ed eseguire delle consegne che poi diventano via via più complesse dai sette anni in poi invece c'è una prova di lettura e comprensione è una prova di ortografia la prova di lettura e comprensione prevede la lettura di parole la lettura di non parole una lettura di brano con successiva comprensione del brano appena letto perché comunque è stata prestata attenzione a mantenere l'ecologia della prova di comprensione del brano e di lettura cioè solitamente bambini a scuola comprendono quello che leggono o devono gli viene chiesto di comprendere quello che leggono e quindi di conseguenza gli viene chiesto di leggere per comprendere quindi abbiamo deciso per questo motivo di non tenere separate una prova solo di rapidità di lettura e una solo di comprensione ma sono combinate tra loro come già fanno diversi test più recenti e poi di ortografia dicevo c'è un dettato di parole che avviene che come dire utilizza parole vocaboli diversi a seconda dell'età diventano via via più complesse andando verso i vent'anni vi dicevo all'inizio che c'è anche una prova che prevede la capacità la possibilità di valutare le competenze metacognitive del bambino di riflessione rispetto a delle proprie attitudini allora la prima prova di coscienziosità allora coscienziosità è proprio tratta dalla come dire da uno dei tratti di personalità soprattutto del modello big five ovviamente in questo test quello che viene in questo prova dell'ids quello che viene fatto non è un test di personalità ma è l'obiettivo in questo caso è di verificare la capacità del bambino piccolo ma anche del bambino piccolo non solo del ragazzo più grande di valutare dicevo la tipologia di impegno di attenzione di interesse che impiega quando è intenzionato e motivato a compiere un'azione quindi con i bambini più piccoli che cosa si fa 5 10 anni no 10 15 anni scusate si mostrano delle carte in cui ci sono scritte delle cose che noi leggiamo e diciamo guarda ci sono delle affermazioni per esempio vado volentieri a scuola per te questa frase non è vera mai è quasi non è mai quasi mai vera lo è solo a volte o è sempre vera quindi con l'aiuto di alcuni smile cerchiamo di guidare il ragazzo delle scuole fondamentalmente della scuola secondaria di primo grado e primo anno della i primi due della secondaria di secondo grado cerchiamo di guidarlo a dare un peso a quelle che sono le sue propensioni la sua come dire la serietà della proprio approccio ai compiti di varia natura non per forza scolastici mentre per quanto riguarda la motivazione scusate ho messo una parte dicevo questo era per i 10 15 anni 16 20 anni le stesse identiche affermazioni sono invece strutturate sotto forma di questionario vero e proprio che adesso un esempio di questi lo vediamo in questo secondo compito questo compito invece motivazione allora la prova di motivazione fondamentalmente che cosa va a valutare la come dire quella distanza la motivazione legata a quella distanza che la persona percepisce tra quello che è in grado di fare quello che potrebbe fare perché si pone un obiettivo perché è in competizione con qualcun altro perché vuole a tutti i costi raggiungere quello scopo quindi la motivazione in questo senso racconta anche poi quello che è collegato a un senso di autoefficacia e di fiducia nelle proprie capacità quindi quanto sono motivato e quindi quanto sono propenso all'impegno in base alla mia motivazione sono una ci sono una serie di affermazioni provo piacere di imparare cose nuove per me imparare conoscere tante cose sono soddisfatto quando sono migliore degli altri queste frasi vengono proposte sotto forma di questionario ai ragazzi 16 20 anni e con le carte con la stessa modalità di prima per quelli dai 10 ai 15 e infine c'è una parte che compiliamo noi questa è un po la cartina al tornasole di tutto il test cioè noi andiamo a valutare alla fine con un questionario di poche domande qual è stata la collaborazione della del ragazzo durante la valutazione e quindi se persisteva anche quando incontrava difficoltà se ha risolto i compiti con poco vigore entusiasmo se per esempio era contento quando risolveva compiti difficili allora queste osservazioni perché le chiamavo cartina al tornasole perché da un lato nel momento in cui io mi accorgo che tutta questa parte ha un profilo molto basso devo per forza rimettere in discussione anche il profilo che è emerso dalla parte cognitiva di funzioni esecutive e di sviluppo generale cioè se una persona ha persistito poco si è impegnata poco era stanca si è annoiata in qualche modo questo devo tenerne conto quando poi vado a descrivere dei punteggi standard l'altra utilità di questa parte è quella di aiutare il clinico a descrivere anche nella relazione narrativa che fa l'approccio del ragazzo al compito e quindi alcune di queste frasi possono essere anche tranquillamente riportate durante la parte narrativa che racconta poi la che utilizziamo nelle restituzioni finali per raccontare quello che è che abbiamo visto durante le varie prove e anche durante le varie tipologie di scale che abbiamo proposto perché la collaborazione durante la valutazione la possiamo compilare sia dopo l'area aver valutato il cui che le funzioni esecutive che le funzioni di sviluppo possono essere anche diverse perché in effetti sono prove diverse che mettono in difficoltà o facilitano il bambino e il ragazzo in maniera diversa a seconda della come dire delle proprie problematiche e quindi io vi ringrazio per l'attenzione penso di essere stata nei tempi e spero sia stato tutto chiaro ma sono aperta domande assolutamente anzi ringraziamo molto la dottoressa monica rea e grepe per averci illustrato in maniera anche molto molto dettagliata questo strumento e in realtà io avrei delle curiosità io nel senso che mi chiedevo innanzitutto dato che è un test molto complesso e completo no che va ad indagare diversi diverse aree come come illustrato si somministra tutto si somministra tutto in un unico tempo perché vedevo che appunto per l'intelligenza completa la parte più approfondita era di 90 minuti quindi mi chiedevo se la subì come avviene la somministrazione ti rispondo intanto a questa prima domanda allora questo test come molti altri test no prevede che possa essere suddivisa in più sessioni anzi deve essere suddivisa in più sessioni laddove ci rendiamo conto che l'affaticamento del bambino possa compromettere la valutazione da una parte dall'altra è legato anche all'età del bambino quindi la valutazione anche del cognitivo di un bambino di cinque anni rispetto a un ragazzo di 18 è diverse e quindi abbiamo di fronte delle resistenze e delle capacità abilità di attenzione e di persistenza diverse ma anche un numero di prove diverse perché il bambino più piccolo chiaramente somministreremo un numero minore di prove rispetto al più grande per quanto ci siano ovviamente si parte da una base collegata all'età è però più grande ragazzo più approfondità più più facilmente si andrà avanti con la somministrazione quindi però e soprattutto perché mi ricollega una cosa detta all'inizio penso ad esempio a tutto il campione dei ragazzi dei bambini con plus dotazione e talento che chiaramente ci porteranno prima di trovare il tetto molto avanti nel nella somministrazione delle prove essendo un test che ha prestato anche come dire ha tenuto conto anche di questo tipo di valutazioni quando è stato costruito chiaramente può essere somministrato in più sessioni possono essere suddivise l'unica le uniche attenzioni che vanno prestate questo sul manuale lo trovate sono sulle prove di memoria a lungo termine cioè io non posso leggere la storia ragazzo dieci minuti prima che va via per poi chiedergli alla volta successiva quando ritorna per il resto è flessibile la somministrazione grazie tra l'altro era una domanda anche che era arrivata dai colleghi che hanno ascoltato insomma era di interesse anche di altri anch'io dottoressa avrei una domanda da farle prego cioè per somministrare questo test è necessaria è necessario un brevetto specifico delle ore di formazioni di formazione oppure che tipo di formazione mi viene da chiedere allora sì avete ragione perché non l'ho specificato essendo un test psicodiagnostico è possibile cioè lo possono utilizzare soltanto le figure professionali che hanno che possono fare psicodiagnosi e quindi psicologi e neuropsichiatri non serve per cui non serve una un patentino per lo per l'utilizzo dell'ids come come per tutte le altre prove e soprattutto per i test nuovi che escono è chiaramente raccomandato o comunque consigliato poter fare delle supervisioni se non oltre al corso di formazione vero e proprio sullo strumento più che altro per confrontarsi su nel momento iniziale in cui non si sta iniziando ad utilizzare il test non lo si conosce bene per evitare di portarsi dei bias di errori durante la somministrazione però di base non è necessario cioè è necessaria una laurea e una specializzazione in neuropsichiatria una laurea in psicologia ecco questo ed essere esperti di valutazione prima che di test questo io sento sempre di raccomandare ai colleghi che me lo chiedono soprattutto quando si lavora con i piccoli perché nella fascia dei piccoli non è così scontato proporre un item e avere una risposta per cui fino a quanto mi posso muovere dalla dallo standard della somministrazione quanto no questo è chiaro che una maggiore esperienza di valutazione ci permette poi di maneggiare meglio anche un test nuovo certo cerco di stringere perché i tempi sono stretti ma ci sono delle domande quando vi sarà la commercializzazione dello strumento chiede un collega e allora ci dovrebbe essere anche ricci in linea oggi che di responsabile di o grefe rispetto a questo ambito allora io penso immagini entro la fine dell'anno ovviamente come tutti c'è stato questo periodo di pandemia che ha un po' bloccato voi immaginate tutti questi accordi internazionali scambi di dati riunione è vero che anche prima le facevamo online però anche una serie di attività pratiche sono state sospese per qualche mese quindi spero tra per la fine del 2020 onestamente spero e ci chiedono anche che tipo di profilo computerizzato viene fornito allora io sono onestissimo ho visto un anteprima non ho ancora visto quello definitivo perché il profilo cioè il database in c'è un database internazionale un database nazionale noi come usufruito quando usufruiremo come fruitori della piattaforma diciamo di computerizzata non ci accorgeremo di quello che c'è dietro per cui utilizzeremo poi soltanto le norme italiane però per la realizzazione di questa piattaforma che deve essere unica si stanno come dire stiamo concludendo le elaborazioni detto questo io ho visto il report tedesco ho visto quello e quello olandese per cui è una sorta di sono diverse pagine che possono essere si può scegliere in che modo poterle organizzare però fondamentalmente da sia i punteggi di conversione da grezzi a standard che punteggi di confronto sui punti sulla natura come dire sui confronti all'interno dello stesso profilo per l'emersione delle discrepanze che confronti rispetto a popolazioni tipiche di pari età quindi per adesso posso rispondere questo onestamente più nel dettaglio non posso andare allora leggo che intanto francesco enrici in effetti ci sta seguendo e ci conferma i tempi di commercializzazione che aveva indicato lei in realtà appunto poi c'è chi chiede delle slide e chi non è riuscito a seguire dall'inizio quindi chiedeva se appunto la parte cognitiva produce un cui comparabile a quello della wish faccio scusate apro e chiudo una parentesi le slide adesso cerco di mandarla a tutti quanti di rispondervi sempre tramite quella sezione ok allora il cui è il cui adesso ci sono i test che valuta il cui multicomponenziale basato sul modello chc adesso noi conosciamo solo le scale la wish ma la wish 4 la vice 4 più aggiornate che fornivano per la prima volta un quoziente intellettivo di su cui dire per un test multicomponenziale basato sul modello chc detto questo sarà assolutamente l'equivalente basato solo per rispondere alla collega che magari sarà collegata un attimo dopo basato su un numero di prove una quantità di prove una qualità di prove leggermente diversa ma che afferiscono tutte allo stesso costrutto in più gli studi correlazionali che abbiamo fatto tra wish e di s2 ci supportano sul fatto che la le correlazioni elevate raccontano di misurazioni che vadano nella stessa direzione con lo stesso costrutto perfetto di nuovo c'è chi chiede di nuovi tempi di commercializzazione che si sono persi quindi entro fine dell'anno giusto ripetiamo allora io direi che siamo arrivati alla conclusione le domande più o meno le si l'abbiamo risposto a tutte alcune siti si sovrapponevano per cui ne approfitto prima di concludere per ringraziare di nuovo la dottoressa monica rea ringrazio voi per la sua esperienza per il tempo che ci ha dedicato e anche alla casa editrice o grefe allora prima di chiudere volevo dare due informazioni rispetto alla biblioteca dei test che attualmente di nuovo aperta ma in modalità da remoto da questa settimana per appunto le indicazioni dati dal nuovo decreto e la nuova ondata di contagi per cui stiamo ugualmente tenendo aperto lo sportello da remoto per eventuali domande risposte potete contattarci al nostro indirizzo email che è biblioteca test chiocciola pl.it o su skype durante le ore di apertura dello sportello online che sono le stesse di quello che era in sede quindi il mercoledì e giovedì dalle 5 alle 9 di sera il nome skype su cui ci troverete è biblioteca maiuscolo test maiuscolo iniziale maiuscola o pl tutto maiuscolo punto 2020 comunque lo trovate sul sito di opl trovato tutti i riferimenti rispetto agli eventi aperti al pubblico quindi focus on e gli incontri con le case editrici per le presentazioni dei test come quello che abbiamo fatto stasera si svolgeranno tutti ancora in modalità webinar quindi online e non appena disponibili le nuove date le pubblicheremo sul sito di opl sulle piattaforme social vi invitiamo comunque a tenervi aggiornati attraverso questi canali e certo no mi chiedevo ma per in una ignoranza mia personale anche psicologi non iscritti all'ordine della lombardia possono accedere a questo alle registrazioni di queste di questi webinar che state facendo sì perché il canale è aperto del ok ok perfetto su youtube caricate monica ti ho allegato per mail il link del canale youtube no perché l'ordine di psicologi del lazio queste formazioni le mette nell'area riservata allora volevo sapere se invece potevo accedere ecco ok grazie no no assolutamente anita io chiedo sempre a te se ho dimenticato qualcosa no hai detto tutto sei stata efficientissima quindi ringrazio tutti anche molto numerosi per la presenza di stasera perché eravamo una settantina e vi saluto vi auguro una buona serata ringraziando nuovamente tutti grazie anche a voi grazie arrivederci arrivederci